oh il miglior video salvatteli stanno affogando i quattro omori aspetta che c'è il piede sotto aspetta diamo la mano sennò se si vuota è tutto lasciare mezzo dall'altra parte aspetta vai incastra la tua dietro aspetta ma che cazzo? no fallo salire fallo salire aspetta andando eh prima sono parito poco convinto ho scalato come ho scalato che cazzo che cazzo ogni volta piano piano che cazzo non c'è non c'è sia che cazzo che c'è bello che cazzo poi di quella troia la fai nello e cosa fai andato a verdure angelo se mi dai un dipanetto lo prendo nello vuoi una mano no se ti metti poco a poco seduto ma qua non è l'ho fatto perché è calato c'è un nello lì è troppo molle il ruby, poi mai schiacci le dita perché non si butta ne avanti quando si è girata bene la mia ti ho ripreso bene, questa è la moto si vede che onore l'ho lanciata perché se mi fermo lì a ritirarla su non ho voglia di fare la discesa brutta forza e coraggio che la musa fa il formaggio in terza stavo salendo, forza è meglio scalare una marcia io sono salito in terza perché sono parlato in terza e poi quando sono arrivato lì ho scalato la seconda la moto di angelo disturba lì perché daniel fa sopra il gescuglio sopra il gescuglio vai prima? ma che cazzo è in prima? terza anello bel cbr devi dargli un po' di velocità no, l'altra volta sono partito in secondo, ho scalato in prima e sei fermato devi dargli un po' di velocità, sennò non va eh lo metti la terza e poi metti la seconda dai retta a me ma quel motore quella ne ha che cazzo è in prima mica ancora deve conoscere quella moto ma motore non motore Sergio fate che? che sgoma come scalico si è russo qua l'ho lanciata perché ho messo in seconda dai 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 ah si lento anello sei lento anello stai in terza anello ah? in terza ero in terza eh ma sei andato troppo lento eh lo so è peggio comunque la terza volta la faccio no vai sicuro perché l'ho fatto tutte le volte lento e mi ha inculato